E ciao a tutti quanti, io sono Pepo e rieccoci come sempre su Scribblenauts Unlimited E volevo appunto farvi vedere una cosina, mentre registro la quattordicesima parte Come potete vedere, qui sto caricando la dodicesima e qui sto caricando la tredicesima Perciò ragazzi c'è solo per voi, proprio siamo a 26 secondi Cioè niente ragazzi, mentre carico due puntate contemporaneamente su Youtube Cioè come potete vedere, una tra 17 minuti sarà online, l'altra tra 55 Cioè ragazzi fenomenale, fenomenale, ho un computer che veramente me ne posso vantare E niente, ok no, non vantiamoci del computer, no scherzavo, dimenticate l'ultima parte Comunque, partiamo subito col gioco, cioè partiamo, perfetto Beh, va bene, ok Come ci eravamo lasciati al castello di Sir Cancelletto E cambiamo subito mappa e andiamo alle rovine di Ellissi Dove dobbiamo raccogliere un Asterite e 7 pezzi di cacca Eccoli i due gorilini, perché c'è un torace? Perché c'è una cassa toracica? Perché c'è una... un sarcofago gigante? Cioè, oddio, l'uomo della Maria? Perfetto, cominciamo subito chiedendo a questo pollicione verde, che è un botanista Questa pianta carnivora può curare molte malattie ma non riesco a farla crescere E ci vuole il fertilizzante, senza quello puoi stare qui 6 mesi Perfetto, sì, perfetto Eh, diamo... oh, gli spinaci Gli spinaci sono fondamentali per crescere Tieni Scusa, raccogli Usa Oh, un'idea! Ma perché certe volte sono così stupido? Aggiungi aggettivo gigante Sì, va bene, ok, gigante Perfetto Perché non cresce? Usa blocca punti, aggettivo Perché non cresce? Non vuole crescere Eh, va bene, ok, ho capito Eh, cosa vuoi per crescere? Cosa ha bisogno una pianta per crescere? Enzete è bagnato Usa blocca punti Aggiungi aggettivo Grande Non vuole crescere Non vuole proprio sapere Ah, è una pianta carnivora Ma tipo due ore per capirlo Ma perché sono stupido? Tieni qua Perfetto Eccola lì, perfetto Pollice verde Perfetto, la pianta carnivora Oddio, che vuoi? Aiuto, la pianta vuole qualcosa di più grosso Nutrila prima che si cibi di me Oddio, ma è una cosa schifosissima Monta Oddio Ah, la pianta! Aiuto! La pianta mi ha rapito Scendi Allora, che cazzo vuoi? La pianta ha fame Madonna santa Perché c'è una pianta stupida? Che cosa vuoi? Vuole una cosa di più grosso Eh, maiale Sì, maiale Manco so scrivere Te qua, mangia ti questo Addio! Pollice rosso Finalmente Mamma mia Allora, tu mi fai parecchio schifo Ottimo lavoro Voi alla fattoria No, dopo, dopo, dopo Ok, no Ferma Ferma Allora, tu mi fai parecchia impressione Perciò vola via Tu mi fai parecchia impressione Perciò vola via Vediamo cosa vogliono le formiche Il nostro leader è morto Creano uno nuovo Perfetto Eh, creiamo una regina Perfetto Il trono della formica Perfetto Avete la vostra regina Eh, facciamo subito la starite Ma sì Ma non è un problema Starite Equipaggia la comitiva Di coraggiosi avventurieri Per un viaggio leggendario Scribble quest Scribble quest Scribble Scribble Ok, perfetto Andiamo avanti Oh, Hercules! Prepara gli avventurieri Per una ricerca epica Dai al guerriero un'arma Subito Spada Vai Andiamo subito Corsiamo come il vento Corsiamo Sì Robin Hood Vai arco Già lo so che tu vuoi l'arco Vai Sicuramente tu vuoi l'arco Arco sport Vai Al brigante Piace stare fuori Dai un'arma Mamma mia Già me lo immaginavo Perfetto Vai Bacchietta magica Perfetto Prima che me lo chiedano Eh Incantesimo Vai Tieni qua Vai Perfetto Vediamo se ti sta bene Lo stregone Mamma mia Sembra che tipo Già lo sappia Che tu chi sei Che non so che darti La guaritrice Ah, ok Perfetto Medico Ti do proprio il medico Perfetto Portati il medico Perfetto Il medico è scappato Oddio un drago Ok Uccidete il drago Eh Perfetto Da spadate Da due chilometri di distanza Poi arriva Perfetto Vai Ora arriva il mago Lo fa diventare un pollo arrosto Eh sì Il meteorete Vabbè Ora arriva il medico E lo cura Ok Perfetto Abbiamo appena ottenuto Il falò Di Hercules Robin Hood Assassin Vabbè E qualcun altro Eh sì La bacchettina magica E tutti si alzano Ovviamente Ovviamente No ma proprio Ovviamente Sti cazzi Il mega bazzucone Ovviamente E beh Scribblenauts Scribblenauts Quante volte mi è capitato Di ammazzare un drago E subito dopo la sua morte Uno scrigno Con dentro spade monete E starite Perfetto Va bene Lasciamo per Mentre voi saltate Io mi faccio casimini Mi prendo la starite E me ne vado Sì Vaffanculo Scribblenauts Completato 31 starite Dobbiamo ancora andare Da Lilli C'è Lilli C'è Lilli C'è Lilli Siamo a 3 su 7 Vediamo cosa vuole Questo uccello Questo piccione Viaggiatore Questo piccione Questo Che è una gabbia toracica Va bene Sono così insignificante Aggiungi un aggettivo Affinché possa integrarmi Usa blocca punti Aggettivo Bello Eccolo qui Guardalo Che bello Guardalo Guardalo Un piccione Con un cappello Da Da Allora Vediamo cosa vuole Qui Smetti di sbagliare Allora Aspetta Dammi qualcosa Per studiare Questi scimpanzè Un Un zoofilo No vabbè Non c'è Allora Facciamo Una lente Di Ingrandimento Così Bello Gli guardi Lano E lo studi Molto bene Perfetto Studio Studio sui primati Ottimo Vediamo cosa c'è più avanti Cosa c'è più avanti Non c'è nulla 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 Vediamo cosa c'è in alto In alto In alto In alto Si in alto Alto Come 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 Ok Perfetto Ma è rosso No Ah ok Deve entrare qua dentro Perfetto I'm sorry Ah ecco vero qua Il vampiro Vediamo che vuole la vampirezza Aiutami a trovare le ossa di cristallo Del re E lissi Ossa di cristallo Di oro Massiva E difesa Facciamo Ossa Perfetto Vediamo Va bene Va bene Andiamo a trovare le ossa di cristallo Oddio È sicuramente questa Ah osso cristallo gigante Ok Perfetto L'ho trovato Sii L'ho trovato L'ho trovato Riempi Perfetto Vediamo che succede E adesso che vuoi Aiutami a trovare le ossa del re lì Se l'ho trovato Va bene ok Forse ce ne sono ancora Che cazzo avete tutti voi Perché là c'è Va bene ok Tu che problemai Madonna Non sbagliare a cliccare Mi sta morendo L'elmetto Clicco Mamma mia Aiuto Non riesco a schivare questi darti impazziti Aggiungi aggettivo Minuscolo Vediamo se spara ancora Io tra un po' mi crepa Ho un'idea Blocca punti Aggiungi aggettivo Invisibile Vediamo Ok no 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 Ok facciamo Scudo 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 Riparati con lo scudo Perfetto Mamma mia Guarda un genio Un genio Ok vediamo Ti ho aiutato Schivare i dardi Perfetto Vediamo Dove andiamo Fico Che vuoi tu Che c'è Che hai visto Ma ho sbagliato No sei su set Ancora non è rosso Quindi devo andare Da qualche parte Dobbiamo andare Allora Che vuole la signorina Aiutami a trovare le ossa di cristallo Del re E lissi Allora facciamo C'era una gabbia toracica Qua tipo Mi ricordo Che facciamo Raccogli Ah no Dobbiamo scendere di qua Ok perfetto Gabbia toracica Prendi E facciamo riempi Sei contenta? Ti serve qualche altra cosa? Cos'è? Oro difesa cristallo Allora Facciamo Scheletro Cristallo Scheletro Ossa Di cristallo Perfetto No Cosa ti serve? C'è qualche altra cosa? Vomito Ma se Ma pre Oddio il vomito Ma che schifo Questo qua è vomito? Ma è una cosa orribile È una cosa Orribilante È una cosa Che cosa è sta Guarda C'è la colonna vertebrale Ma Ma per favore Guarda La gente che lascia la colonna vertebrale Così In giro Guarda Cioè senza parole Senza parole Sì Riempi Perfetto Non mi dire che ce n'è ancora Mamma mia Basta Non ne ho più voglia Re di cristallo Ah l'ho finita Sì Che sono per robo Sì Abbiamo completato il livello Perfetto Sì Fanta Che cosa è? Che cos'è? Scheletro cristallo gigante Ma che cosa sei? Va bene Ok Basta Non facciamoci domande Ragazzi andiamo da Lily E vediamo come sta Perché l'ho abbandonata Tipo Che era totalmente Tutta pietri fichiti Di data Eccoti qui la starite Carissima sorella Che sei brutta Come la fame Sì Ora che ci penso Perché la nave Navigava sull'erba Perfetto La sorella è pietrificata Che cazzo se ne fotte? Lasciamola lì a crepare Tanto Puzza di cacca Abbiamo appena sbloccato Una nuova area Ok Siamo di nuovo da Lily Stiamo guardando Un altro video Ah perché forse Prima non c'era andato Perfetto Lei è contenta C'è la starite Un altro fratello Le montagne La neve Il punto interrogativo No Boba Natale No Oddio Oddio Perché Tutto ciò non ha senso Tutto ciò non ha senso E abbandoniamola Ma sì Che cazzo se ne fotte di lei Manco fosse importante In effetti Nel gioco Mica importante lei Perfetto Abbiamo sbloccato pure La zona innevata E Un altro video Ma è tutto con te Che non ci vado Oddio Li stiamo guardando Tutti assieme ragazzi Un'altra starite Lei è totalmente pietrificata Oddio Il cowboy Oddio Il bandito Ora gli fotte i soldi Ah no Sì perfetto Ok Gli fotte i soldi E lei rimane lì Eccola E' quasi arrivata Perfetto Ce n'è ancora Non penso Cioè no Basta Finito Perfetto E io che pensavo Che avessi finito No ragazzi Si sono appena sbloccati Uno Cinque 6 7 8 9 10 11 12 13 Libelli Perfetto ragazzi Quindi vuol dire che Fino alla parte 27 Ci saremo ancora Ci saremo Ci sarò E Vi farò compagnia Fino alla fine Del gioco Anche perché Per forza Cioè non è che Adesso lo inizio io E poi gioca un altro No lo devo finire Per forza io E spero che comunque Il video vi sia piaciuto E vi ricordo Di mettere Di cliccare Più che altro Il tasto mi piace Sotto al video Così mi farete Un pochettino Più contento E Iscrivetevi al canale Così rimarrete Sempre aggiornati Ogni volta che Pubblicherò Inviare Un episodio Nel frammento Vediamo che qui Sta al 34% E qui al 92% E niente ragazzi E Ci becchiamo Alla prossima Puntata Pepo vi saluta Ciao a tutti Vivo io bene Ciao ciao